Cosa ha portato la banca rotta a banca? L'incapacità di gestire adeguatamente il credito erogato, questo è il senso di tutto quello che ho detto durante queste giornate di interrogatori. E' stato ancora il suo giorno, il giorno del grande accusatore della Malagessio di Banca Etruria, Giuseppe Santoni. Il liquidatore è stato infatti nuovamente protagonista in aula al maxiprocesso per il crack dell'Istituto di Credito Aretino, questa mattina per il controinterrogatorio delle difese. Fu proprio Santoni il primo a mettere nero su bianco le grandi sofferenze della banca, almeno 200 milioni andati in fumo, una voragine in gran parte derivata dai crediti concessi e mai rientrati, alcuni anche secondo l'accusa in conflitto di interesse, cioè ad amministratori della stessa banca. Sono emblematici di un modo di gestire la banca, però devo andare... Non c'era chi recuperava il credito, cioè in che modo? Nel senso che il credito deve essere ben erogato, ben gestito e ben recuperato. Questo è mancato, in una visione ex post naturalmente. Tra le grandi sofferenze, quelle relative allo yacht di Civitavecchia, con 25 milioni persi, la San Carlo Borromeo, con 22 milioni dei 25 concessi mai rientrati, e poi la maggiore sofferenza di Etruria, quella relativa ai cementifici sacci, 49 milioni in fumo su 52 totali. Se non c'erano più risorse nella banca, chiediamoci perché ci siamo arrivati a questa realtà, al fatto che c'erano perdite così consistenti. A questi si aggiunge poi anche il finanziamento a Lifefacing, la società che realizzò l'impianto fotovoltaico dello yacht di Civitavecchia, di cui l'ex vicepresidente Giorgio Natalino Guerrini era coproprietario e amministratore, un prestito che lasciò una sofferenza di alcuni milioni di euro. Guerrini questa mattina era l'unico degli imputati presente in aula, ma ha preferito non rispondere alle nostre domande. La prossima udienza è stata fissata per l'11 ottobre e sarà il turno dei due capi ispettori di Banca Italia, Emanuele Gatti che condusse l'ispezione decisiva del 2013 e il collega invece che l'aveva preceduto nel 2010.